nelle lingue indoeuropee il termine che designa lo straniero contiene contemporaneamente in sé l'intero repertorio delle accezioni semantiche dell'alterità e cioè il forestiero l'estraneo il nemico lo strano lo spaisante tutto ciò che viene avvertito come altro rispetto a me e con quale tuttavia istituì suo rapporto e ne è insomma condensato in un unico termine la conferma dell'originaria indistinzione dei significati convergenti nella parola che indicava lo straniero può essere individuata nei termini impiegati rispettivamente in latino e in greco come risulta da un importante passo del de officis di cicerone in latino per un lungo periodo treniero si dice hostis la cui radice più probabile gas rintracciabile anche nel gotico gast contrapposto al cittadino da colui che in genus vale a dire a colui che appartiene per nascita dalla comunità assunta come riferimento l'hostis non designa affatto originariamente il nemico ma indica piuttosto genericamente l'estraneo senza che sia in alcun modo possibile stabilire se si tratti di uno straniero ovvero propriamente di un nemico il significato del termine hostis diviene più chiaro se è posto in rapporto col termine che ne rappresenta in qualche modo il correlato necessario vale a dire il termine ospes derivando dalla stessa radice come hostis anche ospes indica originariamente l'estraneo ed è dunque sinonimo di hostis e solo successivamente assume il significato di ciò che si pone come termine correlativo di hostis di fronte allo straniero ospes io devo essere ospite ospes ma l'origine comune di questi due termini si conserva nella loro potenziale intercambiabilità nel senso che colui che è ospes è sempre anche hostis è sempre nella condizione di diventare gli stesso straniero viandante bisognoso di ospitalità al punto da poter affermare che hostis e ospes non indicano due stati due condizioni oggettive e immutabili ma segnalano piuttosto due dinamiche che si intrezzano e sono sempre suscettibili di convertirsi l'una nell'altra ciascuno di noi dunque al tempo stesso è inscindibilmente ospite e straniero in quanto l'alterità in qualunque forma essa si manifesti è fondamentale per la definizione della nostra identità tutto ciò appare ancora più chiaro se ci si riferisce alla lingua e alla cultura greca il termine xenox infatti designa al tempo stesso lo straniero e l'ospite senza che ci sia alcuna possibilità di distinguere nettamente quali di questi due significati debba essere considerato prevalente sull'altro chi si presenta come straniero è immediatamente anche ospite non come conseguenza di una mia scelta facoltativa ma come effetto di qualcosa che non sta in me accettare o respingere in quanto scaturisce da ciò che egli è per così dire nella sua essenza non solo lo xenox non è il nemico ma anzi l'essere nemici nei confronti dello straniero è considerato una colpa gravissima come si legge ad esempio nella tragedia ecuba di Euripide essere extroxenos essere nemico dello straniero è nefando innominabile chimile al di là di ogni stupore empio intollerabile qualcosa di analogo si trova infine anche nella cultura ebraica dove Cristo si presenta esplicitamente come xenox ero straniero al quale si deve tuttavia aprire il proprio cuore e mi avete accolto la deduzione possibile a partire da questi semplici accenni di carattere etimologico è immediatamente intuitiva in quanto figura dell'alterità lo straniero è necessario all'affermazione della mia identità non potrei neppure essere individuo non potrei neppure porre e vedere riconosciuta la mia peculiare identità se se non risultasse dal rapporto con ciò che limitandola la definisce perciò lo straniero è colui che mi fa dono della mia identità proprio in quanto egli si presenti in tutta la sua irriducibile alterità proprio in quanto in una certa misura egli venga vissuto come capace di minacciare la mia stessa identità perfetta figura dello straniero nell'accezione polisemica che si è fin qui richiamata è il protagonista del film di Kaurismaki nessun altro segno nessun'altra identità che egli è in grado di esibire che non sia quella di essere uno che viene da fuori estraneo alla comunità nella quale egli compare d'improvviso senza che all'inizio sia possibile stabilire nemmeno se egli sia vivo o morto con un vendaggio che gli copre quasi completamente il viso incapace di parlare sprovvisto di qualunque documento di riconoscimento totalmente privo di memoria e non sia quella vaga e inquietante di una sosta di imprecisata durata in un luogo tenebroso egli è ricondotto letteralmente alla vita imboccato come si fa con un neonato appunto dalla solidarietà umana di alcuni abitanti dello strano microcosmo che vive ai margini in ogni senso di un'algida capitale nord-europea potenzialmente anche nemico come lo è qualunque hostis egli è viceversa accolto come un segnale provvidenziale come indizio di buona fortuna da una delle tante famiglie che hanno trasformato un container in una dimora misera ma dignitosa inizia di qui un percorso che a poco a poco conduce allo straniero ad uscire dall'indeterminatezza con la quale gli compare per la prima volta fabbricandosi letteralmente dal nulla una propria identità in tal modo l'anonimo protagonista del film si trova a realizzare un duplice e parallelo processo di scoperta all'interno e all'esterno di se stesso mentre infatti poco alla volta egli fa esperienza del mondo ne comprende le regole formali di organizzazione e i meccanismi materiali di funzionamento allo stesso modo con altrettanta gradualità egli conosce se stesso senza tuttavia mai riuscire a dissipare l'oscurità che incombe sulla propria identità passata o per maggiore esattezza mai riuscire a ricollegare il sé che gli va quotidianamente costruendo con l'altro sé che gli sta alle spalle e dal quale proviene in questo itinerario che si presenta palesemente con i tratti caratteristici della peripezia dell'eroe culturale impegnato ad affrontare una dopo l'altra una serie di prove mediante le quali saggiare le proprie virtù e il proprio valore lo straniero si trova a misurarsi con due diversi e per certi aspetti divergenti ordini di realtà a un lato e gli si imbatte nelle regole di un'umanità incapace di andare al di là del mero accertamento del possesso di determinati requisiti puramente burocratici totalmente indifferente alla persona e ai diritti che in quanto tale alla persona competono proprio perché è unicamente concentrata su quella sorta di astrazione formale che è costituita dall'identità anagrafica in ospedale o in banca presso l'ufficio di collocamento o nella stazione di polizia l'impossibilità di declinare le generalità la mancanza di un passato documentabile attraverso adeguati certificati implicano nelle migliore delle ipotesi la sua non esistenza o nel peggiore dei casi lo segnalano come soggetto di per sé pericoloso come elemento destabilizzante l'ordine sociale di tutt'altro segno l'accoglienza a lui riservata dall'universo di coloro che vivono ai margini di un mondo che non compare mai esplicitamente ma del quale si intravedono i contorni e si intuiscono le regole il comportamento di costoro anche quando non ispirato alla benevolenza come accade con l'esoso guardiano capace di estorcere denaro con qualunque pretesto è tuttavia sempre e comunque orientato alla peculiarità irriducibile della persona piuttosto che alla sua mera astrazione formale alla sua particolarità umana anziché alle sue generalità anagrafiche così è per la famiglia che lo accoglie originariamente per l'elettricista che lo aiuta nell'attrezzare un ricovero di fortuna per i volontari dell'esercito della salvezza e per i componenti della piccola orchestra perfino per il solitario rapinatore della banca e così è anche per Irma la donna alla quale gli ruba ha un castissimo bacio e che poi lui trova il compagno col quale porre fine alla tetra solitudine di tante notti trascorse nella fredda camera di un dormitorio tra questa gente afflitta dalla povertà materiale ma ricca di umanità avvezza astenti e privazioni al tempo stesso pronta ad una solidarietà concreta senza enfoce e senza retorica capace di far fronte comune contro la violenza che un terzetto di teppisti infligge ad un loro sventurato compagno lo straniero riesce infine a definire una propria identità non si tratta come si è visto dell'identità prevista dai moduli che ripetitamente gli si vorrebbero far compilare ma neppure della sua identità passata dalla quale egli evidentemente è fuggito dalla quale ha inteso allontanarsi anzi per molti aspetti si tratta di qualcosa che è esattamente agli antipodi di ciò chi egli era un tempo non astremio ma pur sobrio bevitore non giocatore ma refrattario a qualunque forma di azzardo non sposato ma senza famiglia non operaio saldatore ma come gli stesso orgogliosamente rivendica indicando il raccolto di benotto patate agricoltore non litigioso come si sarebbe atteso il nuovo partner di colei che era sua moglie ma pacifico scritto con ammirevole sobrietà di immagini e gesti di dialoghi e di suoni carico di una forza evocativa non affidata alla ricerca di un patos superficiale ma disiunta piuttosto dalla linearità di una storia raccontata con un tono quasi dimesso ricorrendo all'eloquenza della sottrazione e delle lissi piuttosto che l'accumulo descrittivo dei dettagli quest'opera di caurismachi illustra meglio di tanta saggistica pseudo psicologica quale scenario sia di fronte a noi in una fase in cui quella dello straniero si proponga come la figura con la quale l'intero occidente l'occidente opulento è fortunato dal punto di vista economico ma pur sempre sull'orlo del crepuscolo che è scritto nel suo stesso nome dovrà comunque fare i conti nel prossimo futuro sia pure nella forma dell'apologo lieve e tutt'altro che dottrinario limpida appare l'alternativa enunciata nel film da un lato il tentativo di cancellare la presenza dello straniero visto unicamente come perturbante e irriducibile al generale perché sprovvisto di generalità vissuto come destabilizzatore di un ordine concepito perciò unilateralmente come minazza e dunque come nemico dall'altra parte una pratica dell'accoglienza non ispirata al buonismo che potrebbe apparire edulcorato e utopistico ma costruita piuttosto nella consapevolezza esplicitamente enunciata dalla donna che imbocca lo sconosciuto nelle scene iniziali del dono di cui egli è portatore dell'identità che gli aiuta a costruire nell'atto medesimo in cui egli stesso definisce la propria del nuovo più maturo e compiuto più ricco e più equo ordine che gli concorre a costruire proprio in ragione e nonostante la sua radicale alterità non è detto che il fatto che gli sia sprovvisto di passato o meglio il fatto che gli non appartenga al nostro passato implica necessariamente che gli debba sconvolgere negativamente il nostro presente al contrario è possibile pensare che proprio questa mancanza di condizionamenti precostituiti consenta a lui come effettivamente accade nel film dove è evidente la filigrana cristologica che accompagna l'immagine del protagonista di agire come figura di redenzione come fattore di emancipazione collettiva un grande poeta del nostro tempo un poeta che non si è espresso con lo stesso linguaggio di Kaurishmaki ma che con lui condivide l'intensità del sentire ha mostrato in quale crogiolo di riflessioni e problemi affondi la meditazione intorno alla figura dello straniero ciò che più intimamente perturba non è la pienezza di un altro volto ma la cavità ancora più inquietante che si scava dentro di me è questo nulla che dice avvicinati di più avvicinati di più a te stesso abbandona la pretesa comunque costitutivamente infondata della pienezza lo straniero scriveva Edmond Chabé non è là fuori rassicurante estraneità rassicurante perché sappiamo come possiamo difenderci da essa è qui dentro ci abita che c'è